L'inceneritore di Cremona brucia al massimo 70.000 tonnellate di rifiuti annui, troppo pochi per giustificare l'esistenza dell'impianto, uno dei più vecchi di tutta l'Europa e altamente impattante a livello ambientale. Da anni però, nonostante i proclami da campagna elettorale, la struttura cremonese resta al suo posto e la progressiva dismissione degli impianti di incenerimento a più bassa performance energetica e ambientale non è avvenuta. Visto che in Regione Lombardia siamo bravi a fare la raccolta differenziata, non c'è materiale a sufficienza per tutti gli inceneritori. La stessa cosa è per quanto riguarda gli inceneritori di Cremona, ma ce ne sono tanti altri in Regione Lombardia. È estremamente vecchio e obsoleto, è inutile. Uno può anche dare una mano di pittura, ma è sempre una cosa vecchia e quindi sicuramente avrà un impatto, ho la certezza, posso dire di avere la certezza, che ha un impatto sull'ambiente e quindi sulla salute dei cittadini sicuramente non buona. Ma poi questi inceneritori piccoli vanno veramente chiusi, sono obsoleti, bruciano poca cosa, vanno chiusi. E noi non abbiamo, tra l'altro non abbiamo materiale, perché come ho detto, Regione Lombardia fa un'ottima raccolta differenziata e avendo 13 inceneritori c'è il materiale per la metà, forse meno della metà degli inceneritori. Una questione è questa sollevata più volte anche in Consiglio regionale della Lombardia, ma che non ha mai trovato una soluzione. Intanto, nell'ultima seduta del 12 aprile, l'Aula ha rifiutato di discutere la mozione urgente presentata dal consigliere regionale Roberto Cenci, il quale, in seguito all'incendio di lunedì 11 aprile, ennesimo incidente legato all'inceneritore Accam, chiedeva di avviare tempestive azioni volte alla definitiva chiusura dell'impianto Neutaglia ex Accam di Bustarsizio.